Mi fa piacere che ti siedi qui, ho vissuto portare qui a Scurtabo perché è cuscita e per assaggiare i nostri intestari. Sì, andiamo, va bene. Due cuperti. Due eh? Chi manca un po' d'eglio? Devo dire che si mangia bene. Lì ballano, ballano! Adesso ballano liscio, ma dopo bisogna discutere per i suoi. Allora ricordiamo che li siete collegati a Corcea. Fino a lì 20 e 30. Un po' meglio assicurata. Fammi sentire! Leo Gale sto qui!